Si intravedono gli emigrati che si sono venuti da tutto il mondo e nel vedere la faccia della Madonna circondata dagli emigrati direi che ne prendono possesso spirituale e materiale Un emigrato ha ingeso nel 1965 cantare con i suoi versi questa polennità 28 versi, cioè due conetti, che sintetizzano i sentimenti di perdere fuori da Serena dal segliato portato per ragioni di dolore che amministrano la cosa pubblica Il poeta si rivolge alla Madonna con attoramento in forma di tussica che è un inno, un canto di fede e di seratica che è la volta dell'emigrato che rivolge alla Madonna per far che le piovere locali iniziano i loro assecchiamenti di potere e di potere mafiosi il canto delle emigrani che conca di 28 versi la prima parte è stata scritta il 15 agosto mi correggo il 14 agosto la seconda parte la parte sociale è scritta in Lombardia il 18 agosto il 14 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 agosto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.